UfficioPostale.it, è l'Italia che cambia. Maurizio Lauro è il tecnico della nuova Samb. L'accordo è stato raggiunto al termine di un summit che si è tenuto tra Vittorio Massi, il DG Gigi Traini, il DS Stefano De Angelis e il consulente Max Fanesi. È bastato poco affinché il tecnico Ischitano, ma residente a Grotta Mare, trovasse l'accordo con i dirigenti del nuovo sodalizio riverasco. Accordo che sarà ratificato ufficialmente in Lega dopo il 30 giugno, giorno in cui scade il contratto che lega Lauro all'Alessandria, club che ha portato la salvezza in C dopo i play-off col San Donato. Lauro, comunque, una volta conosciuto nei dettagli il progetto di Vittorio Massi, non ci ha pensato due volte prima di dire sì, tanto da rifiutare il prolungamento del contratto con l'Alessandria. Definito lo staff tecnico, ora sarà compito del DS Stefano De Angelis mettere a punto le strategie di mercato per la costruzione della nuova squadra. A questo punto si attendono anche le contromosse di Roberto Renzi. Ad oggi tutto tace a Roma, con il patron rosso-blu, che punterebbe sempre alla cessione del sodalizio del Riviera delle Palme. Ma il Tribunale di Ascoli Piceno ha fissato al prossimo 4 luglio l'udienza relativa al pignoramento delle quote sociali della Samb da parte della cooperativa romana Gruppo Tempo, che vanta un credito di 224 mila euro con la Garigliano SRL, società che ne controlla il 90%. Se per quella data la situazione non verrà regolarizzata, il giudice può anche decidere che le quote della Samb vadano all'asta attraverso l'istituto Vendite Giudiziarie, un'operazione che potrebbe slittare anche dopo l'estate. Poi, per avere il carattere dell'esecutività dell'eventuale provvedimento, dovrebbero passare altri mesi. Insomma, una situazione sempre più ingarbugliata e di non facile soluzione per Renzi. L'eventuale acquirente, però, sarebbe sempre l'imprenditore monegasco Francesco Angelini.